A partire da lunedì 24 maggio 2021, tutto il nostro paese, tutta l'Italia, pensate che sarà in zona gialla. Una bella notizia, una bella notizia che ripeto ci arriva proprio da come si legge sul web, una notizia dunque che rincuada tutti, nessuno escluso, un paese, l'Italia, che come anche altri, si è trovato a fronteggiare il maledetto Covid-19, il maledetto coronavirus, che finalmente troverà un po' di pace, un po' di felicità, grazie al fatto che tutto il paese si dice di zona gialla. Dunque più libertà, dunque più tranquillità, dunque più serenità, l'Italia infatti ha un indice di contagio RT che scende ancora e arriva a 0,78, partiva dallo 0,86 della passata settimana. Insomma, le cose vanno drasticamente meglio. Sarà stata, diciamo così, saranno stati i vaccini, saranno state le misure utilizzate, se alludo quindi parlo di proprio la distanza di sicurezza, l'uso delle mascherine e i gerigenizzanti per le mani, non lo so, però sta di fatto che, da lunedì, ripeto, che vi ricordo sarà il 24 di maggio del 2021, tutto il nostro paese si fincerà di zona gialla. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate. Un saluto caro e a prossimo vi una buona sera da voi. Un saluto caro e a prossimo viaggio